Buongiorno ragazzi, siamo qui nel nostro canale di Luca Siddar, siamo nella sezione Natural Movements, siamo in particolare nella sezione dedicata all'attività sportiva e alla propriocezione del corpo, in particolare oggi vi porto con me all'interno di un parco in provincia di Milano, quello che oggi vorrei o esperimentiate, poi anche nel mio canale successivamente potrete attingere ad altri video, è quello di cominciare a percepire il nostro corpo tramite dei movimenti naturali, dei movimenti specifici, spontanei e che, lasciatemi dire, possono anche derivare dal concetto di, dalle discipline di yoga, dalle discipline di meditazione e di consapevolezza. Movimento naturale significa portare il nostro corpo a fare dei sollevamenti, delle spinte, delle resistenze, delle alzate, in maniera naturale, senza un peso specifico, ma soprattutto senza un grande sforzo, quando volete vi fermate, quando volete restate nella posizione, tutto secondo un flusso logico. Ebbene, buon divertimento e buona preparazione con Animal Flow Yoga Harmony. Ciao, Namaskar!